Però dal dibattito che si è sviluppato sembrerebbe quasi che queste situazioni sono dovute a degli eventi e a delle catastrofi naturali come un meteorite o cose del genere. Ha citato prima quello che è accaduto alla Ronda, alla Ronda c'è qualche signore che ha fregato i soldi, diciamola come la cosa. Allora queste persone qui che fanno il bello e il cattivo tempo e poi la politica deve risolvere questi problemi non è concepibile da parte dei cittadini così come non è concepibile da chi nella politica non ha mai messo le mani e adesso che sta cominciando a metterle vorrebbe quantomeno che le operazioni che si cosiddette di verità fossero veramente di verità, ovvero ammettere che si sono stati fatti degli errori, se si è arrivato a questo punto, voglio dire anche il patto di stabilità stesso, chi è che lo ha inventato? Lo abbiamo inventato noi, lo hanno inventato i cittadini, sono i cittadini che hanno inventato il patto di stabilità, ci sarà qualcuno che... No, attenzione, qua stiamo parlando proprio del patto di stabilità, il senso del patto di stabilità, perché io non me la sento neppure di dire che il comune non doveva sforare il patto di stabilità, perché non conosco quali sono state effettivamente le spese che sono state affrontate, perché di fronte a emergenze sociali, a persone che hanno bisogno, evidentemente si può sforare, si dovrebbe sforare, si dovrebbe sforare e non si dovrebbe... Collega Perrino, l'operazione verità, se deve essere fatta, deve essere un'operazione verità, non deve essere un'operazione verità a metà e poi dice vabbè le cose che sono accadute, ciò che è successo è successo, adesso dobbiamo affrontare l'emergenza, uniamoci, affrontiamo l'emergenza e poi pensiamo a chi è stato il colpevole di quella situazione che... ma a me sembra di capire che tempo non ce n'è proprio e non ci sono manco i soldi per poter affrontare la questione, quindi che cosa stiamo parlando? Almeno cerchiamo di trovare a chi imputare le responsabilità e a sto punto... vediamo di risolverlo, vediamo di risolverlo anche così, perché caro Presidente, io faccio una cosa, un collegamento con quella che è la relazione che ci ha consegnato oggi sulla riprogrammazione dei fondi europei, se andiamo a vedere qua in Basilicata la suddivisione per quintili delle fasce di reddito ci mostra una situazione allucinante, cioè che il 42% della popolazione lucana versa in condizioni gravissime, quindi l'ultima fascia di reddito è condivisa dal 42% della popolazione lucana. Andiamo a quella più in alto, poi c'è anche un'altra anomalia, vabbè ma qua non è il caso di entrare nel merito. Andiamo alla fascia più alta, chi sono? 9,4%. Allora, forse, senza arrivare a conclusioni affrettate, la politica che è stata seguita sia a livello di amministrazioni locali sia a livello regionale non è stata mai improntata veramente ad aiutare gli ultimi, i penultimi, i terzultimi, ma abbiamo aiutato questo 9,4% che si è arricchita sulle spalle delle povere persone e adesso si cerca l'unità per risolvere i problemi che sono stati causati da questi signori. E questo, caro Presidente, lei si arrabbia, mi arrabbio pure io se permette, no no, si è arrabbiato prima, mi posso arrabbiare pure io adesso, mi arrabbio perché semplicemente qui ci stiamo prendendo in giro e stiamo prendendo in giro i cittadini e non è nemmeno questo il modo di affrontare una situazione così grave e così catastrofica in un Consiglio regionale dove non era nemmeno previsto questo appunto all'ordine del giorno ed è assurdo, questo è assurdo, caro Presidente, ho capito, c'è il 29, c'è la scadenza, c'è l'armaghetto. No, collega per rire, no, innanzitutto due cose, la prima è che di prassi dopo il Presidente dell'Aggiunta è così, diciamo, siamo andati un po' oltre la prassi, la seconda cosa magari sono delle aspirazioni che non ho mai evidenziato. No, 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 c'è sempre, diciamo, la provvidenza non ha limiti, ma il punto non è questo, il punto è... Anche le capacità personali oltre la provvidenza. A lei le riconosco, quindi il punto non è questo, il punto è che da regolamento il Presidente ha chiesto di fare una comunicazione e quindi come il regolamento prevede ha fatto una comunicazione, il dibattito e segue una eventuale risoluzione. tutto qui, quindi il Consiglio regionale è chiamato a discutere e a ragionare sulla base della comunicazione del Presidente. Però si cerca una collaborazione in una maniera un po' frettolosa, si poteva pensare anche un po' prima di aprire un dibattito, perché qua si è cercato di risolvere, come si cercano di risolvere spesso le cose, cioè dietro le quinte, siccome dietro le quinte non si è arrivata a nulla, adesso noi dovremmo prendere questo e dovremmo dire va bene, dobbiamo unirci, dobbiamo votare, è una risoluzione. Con questo dico semplicemente, confermo tutto quello che ho detto e le perplessità che vi ho evidenziato, io non la voto questa risoluzione. Grazie collega Berrino. Grazie a tutti.